Tariffe parcheggio troppo elevate, monta la polemica di residenti e turisti. Accade ad Ascea, dove dalla giornata di ieri, giovedì 4 luglio, sono entrate in vigore le tariffe parcheggio estive, con validità fino al prossimo 30 settembre. A suscitare polemiche, la scelta dell'amministrazione comunale, retta dal sindaco Pietro D'Angiolillo, di aumentare le tariffe in una parte della località scogliera, dal bivio successivo all'ex LEM, all'inizio della strada sterrata in poi. Nello specifico, considerato che si tratta di area SIC del parco e di zona ad alta valenza ambientale, le tariffe sono le seguenti. 5 euro dalle 8 alle 14 o frazione superiore a un'ora, 5 euro dalle 14 alle 20 o frazione superiore a un'ora, 7 euro invece per l'intera giornata. Tanti i post e i commenti negativi anche sui social, con residenti e turisti indignati per l'aumento delle tariffe rispetto agli anni precedenti. Prezzi assurdi, ma scherziamo? Sì, ok, il mare è bello, ma a parte questo? I parcheggi, soprattutto in zona scogliera, sono inesistenti, sullo sterrato, scoperti, non custoditi. Resto, senza parole, commenta una residente che da anni frequenta le spiagge di Ascea. 7 euro per un parcheggio? È evidente che o non siamo i benvenuti, oppure non sanno fare turismo, commenta invece una turista. Non ci sono neppure i cestini per la spazzatura e pretendono di avere 7 euro per un parcheggio, commenta una cittadina vallese. Intanto da Palazzo di Città fanno sapere che la scelta di aumentare le tariffe nella zona sterrata è dettata dalla volontà politica di limitare il numero di auto che parcheggiano in quell'area, particolarmente delicata dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, al fine di tutelarla. A pochi metri c'è un parcheggio molto più grande, fra l'altro all'ombra, con le stesse tariffe dello scorso anno, 3 euro per mezza giornata e 5 euro per tutto il giorno, afferma Valentina Pica, assessora del turismo del comune di Ascea. A differenza di molti altri comuni cilentani, Ascea è caratterizzata da molti lidi e moltissima spiaggia libera, servita sia da parcheggio a pagamento sia liberi, ragion per cui non verranno meno i servizi. Tutelare l'area è la nostra priorità continua, fra l'altro non bisogna dimenticare la possibilità, come ogni anno, di fare gli abbonamenti, che consentono un risparmio molto forte sulle tariffe.